argenteria con tanti armi da caccia oro è variegato l'assortimento di merce sequestrata dai carabinieri della compagnia di padova da mesi grazie all'operazione denominata con il termine predoni nella lingua del paese delle aquile sulle tracce di un gruppo o batteria di albanesi protagonisti di un movimentato tentativo di rapina alle porte di padova nell'estate scorsa in cui avevano anche sequestrato una loro connazionale per farsene scudo lungo la via di fuga sono quattro uomini di età compresa tra i 27 e i 34 anni fermati nelle marche quando non addirittura raggiunti dal provvedimento di custodia cautelare già dietro le sbarre durante le impegnative indagini che hanno portato i militari dell'arma euganea a sgominare anche un secondo gruppo criminale sempre albanese è stata verificata l'attribuzione agli interessati di almeno una trentina di colpi ai danni di abitazioni private nel padovano tra luglio e settembre 2014 più oltre un centinaio precedenti in varie regioni italiane tra cui ancora in veneto ma nel vicentino modus operandi non era un modo professionale che prevedeva l'individuazione di un'abitazione o di abitazioni particolarmente remunerative diciamo che la tecnica adottata il nome dell'indagine che abbiamo chiamato con un nome albanese aidutet che significa ladroni o predoni era il modo esattamente di razziare quindi venivano prese delle aree per determinati periodi di tempo che possono essere una o due settimane e venivano in maniera puntiforme saturate quindi venivano prese intere vie o interi quartieri e venivano saturate o le abitazioni o le cantine prendendo tutto quello che si poteva prendere che si poteva prendendo tutto quello che si poteva prendendo tutto quello che si poteva